Amici di investire.biz buongiorno e ben ritrovati con l'appuntamento settimanale con Trading Turbo 24, oggi andiamo a mettere sotto il centro la nostra attenzione Unicredit, una settimana importante tanto per la banca di Piazza Gaulenti quanto per tutto il comparto bancario, abbiamo sentito in giorni scorsi quello che è stata la sorte per First Republic Bank in America ma in vista della trimestrale che riporterà nelle prossime ore la banca guidata da Orsel, vediamo quello che è il quadro tecnico e soprattutto le possibilità di trading sul titolo, vediamo questo grafico mensile negli ultimi mesi molto forti per le quotazioni, tuttavia ecco qualcosa è mutato nelle ultime settimane proprio in scia alla crisi bancaria americana e da qui alcune indicazioni che si possono ricavare anche dal daily chart se infatti sopra i 20 euro le operazioni si aprirebbero forti prospettive rialziste più nella breve bisogna guardare a quello che l'intervallo presente fra i supporti di aria 17,60 e 17,70 e le resistenze di aria 18,70 movimenti sopra i 18,70 infatti aprirebbero la porta un ritorno veloce sui 20 euro mentre sotto i 17,68 euro citati in precedenza si aprirebbero le possibilità di nuove discese questi valori clue più importanti anche in un'ottica di medio termine sullo fronte dei risultati aziendali attesi e quelle che possono essere possibilità di trading beh allora la fase più conservativa sviluppare a rialzo di medio termine con ingressi in acquisto in un intervallo compreso fra i 15 euro per azione e 15,80 stop ampio così come sarà anche il target in caso di ritorni sotto i 12 con un primo target si a 20 ma poi la possibilità di sfogare al rialzo questa ampia figura che di fatto proietterebbe nell'intorno dei 25 euro per azione le quotazioni di unicredit come si diceva prima ovviamente questa è una strategia che verrebbe sviluppata al cedimento di quei 17,68 euro che possono altresì essere lo spunto per una strategia short di più breve respiro insomma in questo caso ecco discese da prima in area 17,55 possono essere proprio sfruttate sfruttate per degli short con degli stop sopra i 18,75 un target individuabile a 16 euro meno ambizioso di quell'ingresso e punto di ingresso indicato in precedenza ma per l'appunto una strategia short che andrebbe verso contro il trend primario di tutti gli ultimi mesi per quest'oggi è tutto grazie per aver seguito trading turbo 24 ci ritroviamo lunedì prossimo intanto buona settimana e buon trading